Per la tradizionale festa degli innamorati, l'associazione Donatori Sangue di Teramo invita tutte le coppie a fare un gesto d'amore, effettuando una donazione di sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini. È il secondo anno che promuoviamo l'iniziativa per le giovani coppie, che se vengono in questo periodo insieme a donare ricevono un simpatico regalo, un segno così tangibile per la gratitudine che rivolgiamo soprattutto ai giovani fidanzati, ma anche meno giovani fidanzati, sposati, non è un problema. Perché? Perché insieme possono esprimere i propri sentimenti nei confronti del proprio compagno, della propria compagna, ma soprattutto nei confronti di chi ha bisogno. E il Collegio degli Infermieri risponde con entusiasmo alla chiamata della Fidas, mettendo a disposizione anche i propri iscritti. La sensibilizzazione al giorno d'oggi è importantissima nei confronti della collettività e noi come Collegio che abbiamo nel patto infermiere cittadino il nostro simbolo cardine è giusto sempre più promuovere quelli che sono gli atti dovuti alla salvaguardia della salute collettiva e quindi ben vengano queste iniziative sempre più spesso da dover comunque replicare. Abbiamo bisogno di iniziative come queste che veramente ci riempiono un po' di entusiasmo e ci rincuorano. Perché noi cerchiamo di accrescere questa cultura della donazione del sangue che poi è cultura della solidarietà, del senso civico e soprattutto quando vediamo il centro trasfuzionale pieno di giovani e allora ci si riempie un po' il cuore perché vuol dire che la società ancora risponde agli stimoli per crescere e migliorare. Il sangue è l'elemento cardine del corpo umano ed è per questo che ci troviamo sempre a fare i conti con la necessità di reperire comunque del sangue perché serve per vari motivi e quindi noi come professionisti infermieri ci troviamo a farne i conti, sì. Grazie.